Misure di sostegno economico in favore delle categorie penalizzate dall'ultimo DPCM Conte, come barra e servizi di ristorazione, ma anche palestre e piscine, attraverso un contributo a fondo perduto di circa 2.000 euro per i soggetti che presenteranno apposita istanza, e quanto ha stabilito l'amministrazione comunale di Caramonte e Gulfi, guidata dal sindaco Sebastiano Gurrieri. Per accedere al sostegno una tantum messo in campo dal comune Montano, saranno seguiti gli stessi criteri adottati nella precedente delibera di primavera. A tal proposito, ben 31 aziende e imprese hanno presentato relativa istanza e sono state già adeguatamente remunerate. Alla luce delle disposizioni regionali e nazionali, l'amministrazione comunale non può che prendere atto e attenersi a quanto da esse disposto, commenta il sindaco Sebastiano Gurrieri. Purtuttavia diventa difficile comprendere la chiusura anticipata alle 18 di bar e attività ristorative che in questi mesi hanno sostenuto un'attività lavorativa nettamente ridotta e che stanno facendo fronte a risanare parte delle perdite subite, circa il 60-70% di fatturato, a causa del lockdown vissuto da marzo a maggio scorsi. Non vi è dubbio che la chiusura anticipata avrà pesanti conseguenze economiche sui bilanci di queste attività che in questi mesi avevano anche sostenuto sforzi economici per adeguare la logistica e poter lavorare secondo i protocolli anti-Covid disposti. Anche se siamo un piccolo comune, continua Gurrieri, e abbiamo risorse limitate come amministrazione, abbiamo deciso di intervenire meramente dopo le nuove disposizioni del Governo nazionale, tornando a tendere la mano, secondo le nostre possibilità di bilancio, ai piccoli imprenditori locali. L'apposito bando, contenente i relativi criteri di accesso nonché l'istanza da presentare, saranno pubblicati nel sito istituzionale dell'ente durante questa settimana. Intanto, a partire da giovedì, sarà avviato un progetto di sostegno sanitario e socio-psicologico che la Giunta Comunale ha approvato, curato da un tandem di professionisti composto da un medico pediatra, un igienista e uno psicologo, per garantire alle famiglie e agli alunni frequentanti gli istituti scolastici del territorio comunale il necessario supporto per affrontare l'anno scolastico nel rispetto delle misure di precauzione, specie a fronte delle recenti disposizioni.